Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare Libertà. Eccoci nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplificate al pianoforte. Oggi siamo con Francesco Midillo. Ciao a tutti! Mild in arte. Sì. Che tra l'altro tu hai pubblicato su TikTok un video di questa canzone che faremo oggi nella versione maschile, anche un po' romantica. Comunque andatelo a vedere se siete curiosi, è molto bello. E quindi la canzone di oggi è... bellissima di Anna Lisa. Dopo la sigla. Bene ragazzi, questa canzone si compone di tre accordi all'inizio che sono Fa maggiore, quindi questo è il Do, Re, Mi, Fa, Fa, La, Do e il Fa maggiore. Poi avremo, andando indietro, il Re minore, Mi, Re, Re, Fa, La, Do e il Fa, E poi facciamo ancora un saltino indietro e arriviamo al Si bemolle, Re, Fa. Per fare il Si bemolle entriamo un po' nel pianoforte, così è più comodo suonarlo. E la canzone inizia così. Insieme solo dentro casa che senso ha, di me non parli con nessuno e non me lo merito. Il tuo modo di dire le cose che sesso fa Mi sto impegnando ad essere più elastica Ti sto pensando e non ti scrivo da tanto è un classico E poi senza avvisare se qui Ok, poi di qua si aggiungeranno due accordi, diciamo nel ponte, che saranno il Do maggiore che tutti conosciamo, quindi Do, Mi, Sol E il La minore, quindi andando indietro La, Do, Mi Parte con il Re minore che già abbiamo visto E la canzone va avanti così Quindi siamo arrivati a Si bemolle E poi senza arrivare se qui Oddio però tu mi piaci Ho fatto i salti mortali Non mi dire che è tardi Avevo voglia di Voglia di Bene, poi siamo arrivati alla parte del ritornello Che dove si aggiungeranno altri due accordi Troveremo che sono Sol minore Quindi Sol, Si bemolle, Re E poi ci sarà sempre alla fine del ritornello Il Re maggiore, cioè a metà ritornello Quello che era Re minore prima con il Fa naturale Re, Fa, La Diventa Re, Fa, Die, Si, La E fa così Dove vai? Te ne vai? Quella volta non dovevi andare via Ero bellissima, bellissima Dove vai? Ma che cosa vuoi? Quella volta ti aspettavo in Saint Laurent Ero bellissima, bellissima La minore Do E poi riprende Mettiamo un po' di musica da ginnastica Ok E poi la canzone riprende come all'inizio Le accordi si ripeteranno sempre gli stessi E va avanti così fino alla fine Bene, come abbiamo visto anche questa è una canzone semplice Da suonare il pianoforte Io vi ringrazio Francesco Grazie a te come sempre Mil Per averci dato una mano E vi ricordo se non l'avete ancora fatto di iscrivervi su questo canale È gratis È gratis Se lo dovete Attivate la campanella Così vi arriverà una notifica ogni qualvolta esce un video nuovo E in più se voleste accompagnarvi anche utilizzando la mano sinistra C'è un video Quindi vi lascerò il link che compare qui sopra Quindi potete vedere il video che spiega come poterlo fare Ok? Ciao ragazzi Ciao a tutti E alla prossima